Di Letta, averti qui è un vero onore. Grazie, voglio scoprire tutto su U-Power, se nel posto giusto. Qui è nata la Red Lebe, la scarpa U-Power più leggera di sempre. Ma soprattutto sicura, con il puntale airto alluminium e la tua maglia in Putex Star anti-abrasione, idrorepellente e traspirante. Questi invece sono i pantaloni Horizon e la nuovissima giacca Wink idrorepellente in grafene. Wow, il grafene super tecnologico, termoregolatore e antibatterico. E qui c'è il premio U-Power scarpa d'oro, che ho già consegnato personalmente a chi sceglie U-Power ogni giorno. Mi trovo in un cantiere a Milano, Bergamo, Novara. L'uomo U-Power è... Alessio Enrico Pasquale. Mi fa piacere. Non è da tutti i giorni vincere un premio del genere. Uomini e donne U-Power, la mia ricerca continua. Scrivetemi dove posso trovarvi a dilettachiocciolupower.it Ma lì che c'è? Lo scoprirai presto. U-Power, impossibile resisterli. Grazie.